Ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio veneto alle ultime notizie e di due feriti in prognosi riservata al bilancio dell'incidente stradale che si è verificato in mattinata sulla strada statale triestina nel territorio di San Donà di Piave alla confine con Ceggia. Un Alfa Romeo che stava percorrendo la statale 14 allontanandosi dalla città del Piave ha impattato frontalmente con una Fiat Panda al cui volante si trovava una quarantenne di Ceggia. Devastante l'impatto, i veicoli sono finiti fuori strada. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero del SUEM che ha trasportato la conducente della Panda all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Per lei al pari dell'automobilista che si trovava sull'altro mezzo, un sandonatese di 35 anni, la prognosi è riservata. Purtroppo davvero sono tantissimi gli incidenti stradali nell'ultima settimana in Veneto. Molti di questi incidenti dall'esito tragico sono avvenuti nella provincia di Padova. E' di ieri sera la notizia della scomparsa di un medico che lavorava all'ospedale di schiavonia. Numerosi incidenti stradali dall'esito mortale sono stati registrati nell'ultima settimana sulle strade del Veneto, in particolare sul territorio della provincia di Padova. Giovedì nel tardo pomeriggio il dottor Gilberto Lazzaro è rimasto ucciso in un sinistro avvenuto a due carrare. Il medico, noto pneumologo in servizio all'ospedale di schiavonia, viaggiava su uno scooter quando si è scontrato con un'auto guidata da una donna di 35 anni. L'impatto tra la Renault Megane e lo scooter Piaggio non gli ha dato scampo. Il 118 ha tentato a lungo la rianimazione sul posto, ma è stato inutile. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica della tragedia. L'Ulss 6 Eugania esprime cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Gilberto Lazzaro, un professionista molto stimato e conosciuto che lascia un segno indelebile negli ambienti di lavoro che ha frequentato nel corso della sua carriera. Aveva 62 anni, abitava a Montegrotto. Ieri un consigliere comunale di Belluno, Bruno Longo, è stato ferito a coltellate da un uomo in cura per problemi psichici, poi è stato arrestato dalla polizia. Il consigliere si trovava all'interno della sua auto, era ferma davanti a un bar. La macchina è stato dapprima colpito con pugni al volto, poi nel tentativo di difendersi è stato raggiunto da alcuni fendenti ad un avambraccio. Ricoverato all'ospedale è stato giudicato guaribile in 30 giorni. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Adesso torniamo a parlare delle vicende legate al Mose. La Cassazione ha stabilito un risarcimento per il Consorzio Venezia Nuova. Ma sentiamo tutte le novità che sono arrivate oggi nell'ultimo servizio. La Cassazione ha dichiarato la prescrizione per Marco Milanese, l'ex consigliere della Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, in relazione alla condanna a due anni e sei mesi di reclusione per traffico di influenze per la costruzione del Mose a Venezia. Milanese era stato condannato nel giugno 2017 dalla Corte d'Appello di Milano per traffico di influenze dopo aver ricevuto 500.000 euro da parte del Consorzio Venezia, in cambio del suo intervento per ottenere una norma ad hoc e salvare il finanziamento di 400 milioni per il Mose, soldi che altrimenti rischiavano di essere assegnati dal Cipe per il mezzogiorno. È stato poi confermato dalla Cassazione il risarcimento danni in favore del Consorzio Venezia e del Ministero dell'Economia. Soddisfazione per la decisione della Suprema Corte è stata espressa dall'avvocato Nicola Madia, che ha difeso il Consorzio Venezia, al quale sono state sottratte risorse per ottenere in modo indebito ciò che li spettava di diritto, ovvero le risorse occorrenti ad ultimare un'opera strategica per Venezia, ha sottolineato Madia. Questa mattina alle 10 e un quarto incidente in un'azienda agricola in via Casavelo a Meledo di Sarego, in provincia di Vicenza. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per soccorrere una donna che si era rovesciata con un trattore. I pompieri, utilizzando dei particolari attrezzi, hanno alzato il mezzo, riuscendo a sfilare la signora che è stata presa in cura dal 118, è stata poi trasferita all'ospedale con l'elicottero sul posto, è giunto il personale dello Spisa all'assieme ai carabinieri per ricostruire l'accaduto. Emergenza stamane in provincia di Vicenza per un forte odore di gas. Sentiamo cosa è accaduto. Alle 11 circa i vigili del fuoco sono intervenuti a Creazzo all'incrocio fra Via Olmo e Italia per un persistente odore di gas proveniente da un'abitazione al momento vuota. La squadra dei pompieri, muniti di esplosimetro dopo essere entrati all'interno dell'abitazione disabitata, hanno rilevato la presenza di gas. Dopo accurati controlli, verificato che il contatore dell'appartamento era chiuso e sigillato, si è effettuata una verifica sull'unica utenza attiva di un negozio di parrucchiera, i cui tubi attraversano l'appartamento e su cui è stata accertata la perdita del metano. I vigili del fuoco hanno chiuso l'utenza e fatto sigillare il contatore nell'attesa dei lavori di ripristino della tubazione a servizio dell'esercizio artigianale. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore con il ripristino di tutte le condizioni di sicurezza. Proseguiamo il nostro spazio dedicato all'informazione. Come vedete abbiamo un ospite questa sera, il dottor Angelo Giacomazzi, chirurgo, senologo, che si è occupato di un progetto molto importante. Tra poco ne parleremo. Innanzitutto ben ritrovato e grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Allora, nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, abbiamo parlato di un'iniziativa che ha coinvolto centinaia di parrucchiere, ma non solo, dal titolo Beneficiamo in bellezza, un progetto di solidarietà che è stato messo in atto da numerose parrucchiere e che ha raccolto tantissimi fondi destinati all'acquisto di un casco speciale per le donne che si sottopongono a chemioterapia contro il tumore al seno. Il dottor Giacomazzi è stato un po' il promotore di questa iniziativa. La cosa che dava un po' fastidio a noi curanti è che le donne si occupassero più che della malattia, del dolore della coda, è il fatto di perdere i capelli. Allora noi consideravamo poco questa cosa qua da uomini, da maschi. Salviamo la vita, in fin dei conti i capelli cresceranno. Invece abbiamo visto che è una cosa devastante, soprattutto sulle donne giovani che hanno bambini piccini, perché operiamo donne sempre più giovani, sulle donne che lavorano, che spesso non c'è una così tolleranza oppure indifferenza verso una donna che ha perso i capelli. Ci sono domande fastidiosi. Insomma la cosa era veramente devastante. A un congresso abbiamo visto questa macchina e volevamo comprarla subito. Ci siamo resi conto che costava una cifra spropositata, che il sistema sanitario nazionale considerava questa cosa non essenziale, ma una cosa estetica, per cui abbiamo lanciato una raccolta fondi. raccogliere, volevamo comprare due macchine, 120 mila euro, era una cosa improponibile. Abbiamo dovuto creare un fondo dal quale partire. Ecco, è stata veramente una gara di solidarietà, ma che ha portato tantissimi risultati, a partire dal coinvolgimento delle persone come imprenditori e poi anche in termini finali con la raccolta di denaro. Sì. Insomma, la categoria che ci sembrava più interessata era sicuramente quella che aveva a che fare con le donne dal punto di vista dei capelli, insomma, ed erano i parrucchieri. Le parrucchiere o parrucchieri non hanno un rapporto con il cliente come i barbieri di una volta che tagliano i capelli e il signore è servito, eccetera. Hanno un rapporto particolare, un po' personale, di chiacchera. Beh, in effetti ci si confida molto poi quando si va dalla barrucchiera. Per cui dover tagliare e rasare i capelli a una persona che è diventata tua amica, con la quale hai confidenza, è una cosa devastante anche per chi lo faceva. Per cui abbiamo coinvolto alcune persone che conoscevamo, che sembravano sensibili anche qui del Padovano e queste persone hanno fatto, da tre di unione, sono state bravissime nel coinvolgere due anni fa un altro gruppo di parrucchiere e c'è stato un fondo che ha permesso di acquistare questo per l'ospedale di Camposampiero. Naturalmente la voce si è diffusa e queste stesse parrucchiere, qui di Peraga, di Vigonza, di Padova, eccetera, hanno coinvolto altre parrucchiere di Treviso e hanno fatto da tutor per questo progetto che ha coinvolto 160 parrucchieri, dico 160... È un numero molto importante. ...da gestire, con una chat, eccetera, e questi parrucchieri l'8 marzo, Festa della Donna, hanno dedicato il 50% del loro incasso, compreso anche lo stipendio ai loro dipendenti che spesso hanno rinunciato ad avere, per raccogliere questi soldi, per comprare questi caschi per gli ospedali della provincia di Treviso. Sono stati raccolti 100.000 euro, per cui è stato un risultato straordinario. Il progetto crea assolutamente l'attrazione. Se tu chiedi soldi così, su una cosa, ma se c'è un progetto ed è motivato, secondo me la gente risponde, perché c'è tantissima solidarietà qua nel Veneto, e dappertutto, ma qua nel Veneto in particolare. Sì, una macchina che si è mossa veramente in pochissimo tempo, poi mi sono accorta che ci sono state anche tante persone che si sono aggiunte in corsa, e sicuramente il prossimo anno ci sarà una ripetizione di questo grande appuntamento. Non le faccio dei brevissimi esempi. 250 motociclisti hanno fatto un giro con le donne dietro vestiti di rosa per raccogliere soldi, delle palestre. Una signora ha fatto un torneo di burraco, un'altra signora ha rinunciato ai regali del compleanno e ha voluto soldi. Le dico, il coinvolgimento è stato importantissimo e piacevolissimo. Ecco, io adesso vorrei parlare anche di un altro appuntamento, perché lei davvero si muove attorno a questa macchina della solidarietà con più eventi. Che cosa c'è in programma nei prossimi giorni? Ma appunto, per continuare quello che dicevo prima, che c'è una grandissima solidarietà, un grandissimo movimento qua nel Padovano, ma insomma qua nel Veneto in particolare. Questi veneti che sembrano così ottusi, così chiusi se stessi, così autocratici, eccetera, invece in effetti quando vengono chiamati suonano sempre. E allora a Piazzola si è spostato da Camposampiero un avvenimento straordinario. Era un avvenimento che avveniva nel sottoportico di un bar, che si chiamava Perisho, e venivano fatti dei piccoli concerti, e il ricavato di questi concerti, di questi piccoli concerti e della vendita di questa birra che i ragazzi bevono molto purtroppo volentieri, veniva dato per dei progetti per disabili. Questo progetto qua da anno in anno è cresciuto sempre di più, adesso è a Piazzola sul Brenta, si aspettano 15.000 persone, c'è un palco che è alto come la cattedrale di Parigi, e questo progetto qua serve sì per risolvere alcuni problemi che il sistema sanitario non può risolvere per disabili, ma ci ha coinvolto perché in effetti a noi, nell'ospedale di Camposampiero, manca una macchina raffinata per le mammografie, per la diagnosi precoce del tumore al seno, che si chiama tomosintesi, e speriamo di cominciare una raccolta fondi anche grazie alla Perisho. Quindi la Perisho è un avvenimento al quale andare, senza bere, solo per ascoltare la musica, anche bevendo mezzo bicchiere di birra, via, e crea benessere, risolve tanti problemi a tante madri, a tanti padri che hanno dei figli, che hanno o hanno avuto dei problemi di disabilità, che non possono essere risolti dal sistema sanitario nazionale. Dottore, io la ringrazio per la sua presenza nell'edizione di questa sera. Io ringrazio voi, e ringrazio questa televisione benemerita che si occupa di queste cose qua, perché è assolutamente necessario che queste notizie vengano diffuse e che si approfitti di queste occasioni per essere più felici facendo beneficenza. Grazie, grazie soprattutto all'attività sua e anche all'attività di chi muove questa macchina della solidarietà. Noi proseguiamo il nostro spazio dedicato all'informazione, adesso abbiamo un servizio della redazione. Italiani pronti alla partenza. Grazie al 25 aprile e al primo maggio in tanti beneficeranno di alcuni giorni di vacanza. Saranno 7.969.000 per un giro di affari di 2,85 miliardi di euro gli italiani che si muoveranno per il 25 aprile e 7.517.000 per il primo maggio. I dati sono di Federalberghi. La meta preferita per gli spostamenti resta l'Italia. Le strutture ricettive preferite saranno casa di parenti e amici scelte per il 32,9% dei vacanzieri mentre il 24,4% ha scelto l'albergo. E adesso siamo arrivati al momento tanto atteso del fine settimana a quello con la rubrica di approfondimento dedicata alla storia. Allora la parola passa all'esperta Marisa Sottovia che salutiamo. Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo di Antonio Fogazzaro poeta, scrittore, più volte candidato al premio Nobel per la letteratura ma che non vinse mai. E allora conosciamo lo scrittore che nacque a Vicenza, 1842 da famiglia benestante, molto religiosa infatti aveva uno zio sacerdote e una zia suona. Frequenta le scuole elementari e poi liceo. E qui incontra un docente, poeta Giacomo Zanella che lo appassiona alla letteratura alla quale lui vuole dedicarsi ma trova la contrarietà del padre che lo vuole avvocato. La famiglia intanto si sposta a Torino e quindi si iscrive alla facoltà di giurisprudenza e si laurea ma la letteratura resterà per lui una passione immutata. Si trasferisce poi a Milano e qui incontra molti personaggi del mondo intellettuale tra i quali anche Arrigo e Camillo Boito. Inizia così a scrivere le prime opere primo poemetto che si intitola Miranda e poi ancora Valsolda. Sono opere che non incontrano il favore del pubblico e allora Fogazzaro cambia genere e si dedica alla prosa e scrive il romanzo Malombra Malombra che riguarda incentrato su una figura femminile tra seduzione, spiritualità e sensualità e viene molto apprezzata. Poi ancora altre opere sono Daniele Cortis e poi passiamo al capolavoro Piccolo mondo antico del 1896 che riguarda una coppia una coppia di coniugi lei, Luisa, la protagonista dotata di un carattere molto forte mentre lui, Franco il marito è un po' troppo sentimentale ma l'opera viene molto apprezzata. Poi ancora l'altra opera Il piccolo mondo moderno che uscirà nel 1900 ed è uno spaccato della società di fine secolo. Altre opere ricordiamo il santo Leila Leila invece è incentrata su un tema religioso lui era molto sensibile a questa tematica auspicava una radicale riforma della Chiesa ma andiamo poi a quella che è l'affermarsi della teoria darwiniana e lui auspica un cambiamento della società e guarda avanti. Questo atteggiamento invece è stato così ha trovato il disappunto alla contrarietà della Chiesa che mette all'indice alcune sue opere. Ricordiamo che Piccolo mondo moderno è stato scritto in Villa Fogazzaro a Montegalda una villa bellissima del 1600 molto curata. Questa villa poi ricordiamo che è passata di mano alla famiglia Colbacchini costruttori di campane e informiamo pure che c'è un interessante museo dedicato alle campane. Per concludere torniamo ad Antonio Fogazzaro fu uno scrittore molto impegnato e affrontò temi complessi come l'amore la politica la religione la scienza e la modernità quindi uno scrittore che si è lasciato veramente una importante eredità letteraria. Grazie a Marisa sotto via per l'approfondimento di storia ed ora uno sguardo alle previsioni del tempo un vasto e consolidato campo di alta pressione centrato sull'Europa centrale mantiene sul Veneto il tempo stabile con cielo sereno e temperature ben sopra la media del periodo da domenica l'alta pressione si indebolisce leggermente consentendo l'ingresso di aria un po' più umida che darà luogo da lunedì ad una diffusa nuvolosità irregolare. È tutto per questa edizione grazie a tutti voi per l'attenzione vi auguro una buona serata e un buon fine settimana arrivederci grazie a tutti Autore dei sorrisi